Lui è attefice di questo miracolo politico che ha una visione di città. Abbiamo una collezione di centrodestra, omogenea e impulita, che si contrappone ad altre coalizioni centrosinistrate che però avranno grande difficoltà nel caso in cui dovessero vincere. Il sottoscritto dagli anni 90 interagisce con i giovani e non a differenza di qualche altro che ascolta da qualche mese a questa parte. Se davvero credete in quello che abbiamo fatto, e allora votate con il ragazzo, votate con l'anziano, votate con le famiglie. Diventiamo sindaco! Diventiamo sindaco! Notizie dal mondo di Hollywood. Alcune immagini inedite di una recente presentazione Hasbro confermerebbero che il prossimo capitolo della saga Transformers non è molto lontano. Transformers 5 dovrebbe infatti uscire in sala nel 2017, solo tre anni dopo Transformers 4, quindi, di quest'estate. Nessun'altra informazione è stata in qualche modo confermata, però non dovremo aspettare a lungo e scommetto che è una buona notizia per i fan di Transformers. Mi raccomando, voi mettete un mi piace sulla nostra pagina Facebook Anteprima Cinema e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!